dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e che gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lasciali il tuo dono davanti all'altare va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre se in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna il giudice il giudice la guardia e tu venga gettato in prigione in verità io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo grazie a tutti